Come nasce un'emozione? Dove si forma? Quanto si aspetta? Se c'è qualcosa che ho imparato negli anni è che non bisogna cercare di spiegare le emozioni. Dobbiamo lasciarci travolgere. Abbiamo bisogno di sentire davvero, di ascoltare ciò che ci circonda. Le nostre mani cercano nuovi terreni da esplorare. I nostri occhi, forme, dettagli, colori. Ho imparato a raccontare le emozioni con il mio sguardo e con le mie mani. Trasformando il mio quotidiano in una continua scoperta. Non aspettare. Il domani è già qui. Catturalo.